dormire qui c'è poco da dormire dobbiamo stare svegli benvenuti alle lezioni di lingua italiana come vedete dal cappello quando pensato una serie di video dedicata alla lingua italiana il mio pensiero è dato subito agli stranieri a tutti coloro che conosciuto nel corso degli anni desiderosi di imparare questa stupenda lingua solo per passione o per necessità poi mi sono imbattuti in un sito leggendo i commenti di italiani mi sono messo le mani in testa tra i capelli errori gravi di grammatica o cose come hai visto senza h errore tra l'altro ripetuto spesso o anche e invece di e con l'accento eccetera questi video sono per gli stranieri ed anche per noi italiani l'alfabeto italiano ha 26 lettere incluse le 5 lettere inglese integrate escludendole sarebbero 21 lettere l'alfabeto italiano di 21 lettere a b c d e f g h l'alfabeto italiano di 21 lettere a b c i l m m n n o p q q r s t u v z l'alfabeto italiano con le 5 lettere inglese l'alfabeto italiano con le 5 lettere inglese a b c d e f g h i lunga j in inglese 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 in W o W in italiano W in inglese X in italiano X in inglese Y in italiano Y in inglese Z In poche parole le cinque lettere inglesi integrate nell'alfabeto italiano sono I lunga J in inglese K K in inglese W o W W in inglese X in italiano X in italiano Y in inglese Y in italiano Y in inglese I numeri italiani da zero a dieci 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 l'articolo determinativo l'articolo determinativo in inglese abbiamo THE che è uno solo come articolo determinativo in italiano in italiano in italiano 7 in italiano 7 che sarebbero il maschile singolare 8 8 8 9 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 19 18 19 19 19 19 20 19 20 20 20 21 22 22 23 23 24 24 23 dei denti movimento verso il davanti la lingua in questi casi non è dritta ma assume un movimento una posizione quasi arrotondata maschile plurale le femminile plurale l apostrofo maschile femminile plurale con l apostrofo va ogni nome preceduto da A E I O U sono cinque ripeto l va con A E I O U esempio con il il topo il ragazzo il bambino il cane il gatto maschile singolare si usa l'O davanti a S impura A Z X ed alcuni gruppi di consonanti come PS PN al diagramma N l'O è maschile singolare ripeto l'O va davanti a S impura a Z a X a PS PN N esempio lo sposo lo stupido lo spettacolo S impura lo zerbino Z Zerbino lo xenofobo X xenofobo lo psicologo PS ps psicologo lo gnomo N lo gnomo eccetera eccetera con la femminile singolare la ragazza la donna la casa la zanzara la giraffa con i maschile plurale i ragazzi i cantanti i calciatori i bambini i film con gli maschile plurale ricordate gli gli sposi gli stupidi gli spettacoli fate attenzione non gli sposi ma gli sposi gli stupidi gli spettacoli con le femminile plurale le ragazze le donne le case le cantanti le attrici con L apostrofo l'acqua l'erba l'imbuto l'uovo l'uva qui abbiamo usato A E I O U quindi A E I O U acqua erba imbuto uovo uva prima di queste frasi abbiamo messo la L apostrofo l'acqua l'erba l'imbuto l'uovo l'uva il plurale di il è I ed ogni nome regolare singolare finisce con O plurale con I quindi il finisce con O I finisce con I il ragazzo i ragazzi il plurale di la è le ed ogni nome regolare singolare finisce con A plurale con E ad esempio la finisce con A le finisce con E la ragazza le ragazze il plurale di lo è gli ed ogni nome singolare finisce con O plurale con I quindi lo finisce con O lo sposo e gli finisce con I gli sposi L apostrofo è singolare sia maschile che femminile difatti l'acqua è femminile l'imbuto è maschile per gli stanieri quando si inizia un discorso ciao hello come stai how are you bene grazie fine thank you come ti chiami what's your name mi chiamo Mustafa my name is Mustafa da dove vieni o di dove sei where do you come from vengo dall'egitto I come from Egypt dove vivi where do you live vivo a Roma I live in Rome Roma breve storia della lingua italiana originariamente la lingua italiana nacque a Firenze si parlava il fiorentino letterario usato nel 300 oggi l'italiano è tra le 24 lingue ufficiali dell'unione europea si parla l'italiano dialetti a parte perché ci sono tanti dialetti in Italia si parla l'italiano in tutta Italia e anche in Svizzera a San Marino nella città del Vaticano che è a parte non è Roma e persino nel sovrano militare ordine di Malta 32 sono i dialetti in Italia anzi le lingue parlate in Italia non dialetti perché sono definite lingue non dialetti 32 lingue in Italia alcune di queste totalmente diverse dall'italiano per esempio nella regione della Lombardia si parla di dialetto milanese bergamasco novarese e ticinese ed ognuno di loro si distingue con svariate differenze ma il Lombardo il Siciliano il Piemontese sono considerate lingue e non dialetti a differenza del Laziale e del Pugliese quindi il Lombardo è una lingua il Milanese invece è un dialetto il Bergamasco è un dialetto eccetera eccetera il Siciliano è una lingua ma il Palermitano è un dialetto il Piemontese è una lingua ma il Torinese è un dialetto invece il Laziale e il Pugliese sono dei veri e propri dialetti quindi c'è molta differenza tra l'italiano e i vari dialetti tenterò di farvi degli esempi scusate se la mia pronuncia non sarà giusta al 100% ci provo giusto per rendervi l'idea e chiedo scusa se magari non non riproduco bene il suono di alcune lettere comunque ci provo per esempio il Milanese assomiglia un po' al Francese più o meno o è ti ma va a dormire va in italiano ehi tu ma va a dormire sarà su chiudi il Torinese anche il Torinese sembra un po' ricordo un po' il Francese ti piace questo né? ti piace questo? non è vero? sono di Torino sono di Torino il Bergamasco dice più o meno così potà che significa accipicchia oppure insomma il siciliano o palernitano più o meno dice così buonasera vostra signorea buonasera signora ti piace questo? ti piace questo? il Pugliese è più o meno così no che cosa perché perché che abbas ma che cosa poco poco più giù il Laziale o Romano è più o meno così scusate se faccio un po' il il coatto il burino ehi tu ma guarda quella lì andiamo via questo un po' vabbè il Romanaccio non è proprio Romano quello più fine diciamo chiedo di nuovo scusa se ho tentato di fare le limitazioni dei vari dialetti comunque sia i dialetti esistono anche in altri paesi del mondo ma non credo con così grandi differenze come in Italia dobbiamo tenere presente che l'Italia era divisa sino al 1861 anno in cui il regno d'Italia si formò prima era divisa in tanti regni ducati contè eccetera eccetera tuttavia consiglio di studiare l'italiano senza farsi spaventare da vari dialetti e lingue bene spero che avete apprezzato questo video aspetta i vostri commenti qui sotto un saluto e un abbraccio ciao alla prossima vincerà vincerà Grazie a tutti.